Entriamo nel tema che vi dicevo prima, dicendovi anche una cosa, che gli Stati Uniti non sono i primi a essersi mossi sul bando di TikTok. Canada, Taiwan, Nuova Zelanda, Australia, sono solo quattro dei tantissimi paesi che hanno detto stop al social e allora si può dire che gli interessi coinvolgono anche il nostro schermo. Come ogni mercoledì, William Nonnis, ciao William. Ciao, buon pomeriggio a tutti. E Savio Rociola, bentornato Savio, ciao. Buonasera, buonasera. Buonasera a te. Che a dire, la guerra traslata sui social, William, negli Stati Uniti, come ho detto prima di lanciare il secondo blocco, dicono basta a TikTok. La Camera ha approvato la legge. Sì, diciamo che inizialmente, se vi ricordate, era stata approvata solo per i dipendenti pubblici, dove praticamente negli Stati Uniti tutti i dipendenti pubblici hanno un numero di servizio, chiamiamolo così, e sono rintracciabili dalla pubblica amministrazione americana tramite quel dispositivo, quel numero di telefono. Ed era stato vietato praticamente il download, attraverso gli store di Apple o Google, che sia, dell'applicazione TikTok. Successivamente, come hai detto tu, entro sei mesi, praticamente non è solo un blocco di TikTok, è più sottile secondo il mio punto di vista. Praticamente la norma impone che eventualmente TikTok avesse interesse a restare in piedi, deve vendere tutta la società, le infrastrutture, i dati, tutto quello che oggi ha TikTok, a una multinazionale americana. Capite benissimo che l'interesse è molto più ampio, ma questo provvedimento, come dicevi tu, oltre alle nazioni che tu hai elencato, praticamente la prima al mondo è stata l'India nel 2019, quindi capite benissimo che non parliamo di una cosa, tra virgolette, di una novità, chiamiamola così, ma sicuramente questa guerra Cina-Stati Uniti è inizio di una guerra, chiamiamola sui dati fondamentalmente, perché TikTok ha un algoritmo potentissimo che riesce a memorizzare determinate azioni degli utenti, a profilare, a targettizzare determinati utenti. Parliamo di utenti giovani dai 13 ai 25 anni. Davio, anche a te un commento, poi sentiamo un servizio che ci porta nella questione politica del bando di TikTok. Beh, sicuramente è una tematica che è molto calda in questo periodo, tocca molti argomenti possiamo dire, perché bisogna forse guardare più in generale non solamente TikTok, ma comunque tutte quelle restrizioni di vieti che la Cina e gli Stati Uniti si stanno un po' dando a vicenda, un po' di guerre proprio sul controllo di società tecnologiche, limitazioni di vari colossi. Tempo fa fu limitata ad esempio la Apple per fornire applicazioni straniere sul swap store, sugli prodotti Apple venduti in Cina. Quindi comunque sono delle regole che si stanno dando nel tempo, che vanno proprio a limitare, proprio dal punto di vista magari anche economico, non soltanto tecnologico. Proprio la forza delle società cinesi e statunitensi. E allora a questo punto, come promesso, servizio ho detto e servizio sarà. Prego regia, Emanuele Landi. TikTok potrebbe avere le ore contate in America. La Camera a stelle strisce infatti con 352 voti favorevoli e 65 contrari ha approvato la legge che apre la strada al divieto di utilizzare il popolare social network negli Stati Uniti. La motivazione dietro questa decisione residerebbe nella possibilità che i dati degli utenti americani possano essere ripresi dal governo cinese. Prima di sapere se 170 milioni di utenti saranno privati del social ideato nel 2016, bisognerà aspettare la decisione del Senato. In un primo momento c'è chi esprime perplessità per la rapidità della decisione. Sta di fatto che mentre il presidente Joe Biden non si opporrebbe a questa decisione e firmerebbe il disegno di legge, Donald Trump invece, che in passato l'aveva definito una minaccia per la sicurezza nazionale, ora sarebbe contrario al divieto che andrebbe a rafforzare il nemico del popolo, ossia meta proprietaria di Instagram e Facebook. Il tycoon, tra l'altro, durante la sua presidenza cercò di strappare il controllo di TikTok a ByteDance, ma fu bloccato dai tribunali statunitensi. La stessa società cinese ora ha un ultimatum di sei mesi per vendere la piattaforma che altrimenti sarebbe bloccata e bandita dal territorio nazionale. Intanto da Pechino la reazione è arrivata forte e diretta. Durante una conferenza stampa, il portavoce del ministero Wang Wenbin ha accusato gli Stati Uniti di ricorrere ad atti di bullismo quando non riesce ad avere successo in inegua competizione, dichiarando come questa mossa si ritorcerà contro di loro. Insomma, la palla passa al Senato. La sensazione però è che tra uno scroll e l'altro il tempo di TikTok negli Stati Uniti si stia per esaurire. Grazie mille Emanuele Landi per questo contributo. Ovviamente ci porta anche dentro il tessuto politico. Avete visto la figura di Joe Biden e avete visto tutti gli intrecci legati ai rapporti Stati Uniti e Cina. Ecco William, insomma, la risposta ce l'ha data il servizio. No, assolutamente vero e ribadisco. Secondo me non è, come diceva il collega di trasmissione oggi, non è un problema di effettuare norme, blocchi che necessitano su una determinata applicazione al fine del business o non business. Il problema è che dobbiamo fare anche un discorso di democrazia, di scelta. Nel momento in cui io sono consapevole che danno può crearmi quell'applicazione, quello strumento, devo essere libero di scegliere e non deve esserci tra virgolette, passatemi il termine, un Stato che mi dice no, quello sì, quello no. Scusatemi un attimino, se siamo in democrazia sarò io libero di decidere che cosa voglio mangiare oggi a pranzo e mangiare stasera a cena. Quindi questo cosa voglio dire? Che fondamentalmente secondo me è un discorso molto più ampio, è un po' l'intelligenza artificiale, ora parliamo da una norma o un'altra, però il succo è sempre quello. Si rischia di bloccare un business economico perché dentro TikTok fondamentalmente ci sono persone che vendono i propri servizi, non vendono, non fanno solo gli interessi diciamo dei ragazzini, delle nuove generazioni con i propri video e quant'altro. Sono attività che fanno business con TikTok e non capisco dove sia il punto di creare norme o quant'altro, anche perché le norme possono essere veicolate attraverso degli strumenti chiamati VPN che bypassano questo problema qua. Eh sì, tra l'altro molto apprezzati anche da vari youtuber. Savio vengo da te proprio per un commento sul servizio, sul ruolo anche dei protagonisti politici in questo bylam culturale. No sì, sicuramente il servizio che è stato mandato in onda è, possiamo dire, chiarissimo, nel senso tocca vari aspetti, in particolare anche quello politico. Non volevo sicuramente andare, possiamo dire, contro quello che era stato detto in precedenza dal collega, però ho voluto toccare proprio anche l'aspetto economico, perché dal mio modesto parere viene anche toccato quello, però comunque proprio bisogna, come è stato sottolineato dal servizio, proprio puntare, anche in questo caso è stato detto intelligenza artificiale, sicurezza, perché poi sino alla fine è proprio quello. La sicurezza di dati che viaggiano sui social a una velocità comunque stratosferica e magari potrebbero arrivare proprio ad essere dati che dopo un po' di tempo diventano proprio incontrollabili, perché noi ai social diamo in mano tutto, se non tutta la nostra vita quasi. Quindi è proprio questo, sicuramente ne vengono meno con questo voler bandire TikTok dagli Stati Uniti, anche come adesso Trump che è contro questo provvedimento, sicuramente, perché comunque possiamo dire che anche Trump ci guadagna, nel senso ci sono delle campagne elettorali che bisogna affrontare, quindi anche dal punto di vista politico, come poter toccare più pubblico, in questo caso magari un pubblico più giovanile, TikTok poteva anche essere utile a questo. Un tema però che va sollevato sicuramente è quello legato all'approccio di alcuni paesi che, come giustamente diceva William, già da tempo hanno adottato il bando di TikTok. Lo abbiamo detto, l'India nel 2019, ma abbiamo parlato del Canada, Nuova Zelanda, Taiwan, vabbè Taiwan insomma era abbastanza scontato, ma c'è un'area del mondo come il Pakistan che toglie, mette, toglie, mette, toglie e mette TikTok. In Afghanistan invece TikTok teoricamente non si potrebbe usare, ma il mezzo per usarlo se lo si è trovato aggirando facilmente l'ostacolo. Il timore negli Stati Uniti è che questa legge poi non venga applicata, soprattutto con l'illusione del sistema. Ecco, il mondo è molto frassagliato William su TikTok, lo vediamo. Assolutamente sì, perché il collega ha toccato una tematica ma secondo me importante per la politica gli strumenti, i social, qualsiasi social, è importante per arrivare a un cliente finale, cioè a una persona che può dare il consenso a quel partito, a quel presidente, a quel premier, a quello che vuoi. Quindi di conseguenza tu vai a inibire un sistema che può darsi porti più voti da una parte rispetto a un'altra? Assolutamente sì, ma questo non dipende dal punto di vista della piattaforma, ma dipende dal punto di vista di una scelta politica. A questo punto dobbiamo riscrivere le regole in generale. Io ricordo sempre una cosa fondamentale, quando si fanno le elezioni si dice da 48 ore in poi fino al giorno in cui si va a votare, c'è il silenzio elettorale. Beh, ditemi se sui social c'è il silenzio elettorale. Si continua a fare le campagne elettorali fino a che non finisce l'orario di votazione in invito in quel momento, in quell'istante. Quindi di cosa vuol dire questo? Bisogna riscrivere le regole, ma riscrivere le regole, non riscrivere le regole stringenti che vanno a dire tu cittadino devi per forza fare quello perché quell'altro che fai è sbagliato. No, tu mi devi far capire perché è sbagliato o perché non è sbagliato. Sono io libero di scegliere quello che voglio. Come dicevi tu un altro discorso, ma lì è un altro discorso, perché comunque se prendiamo il modello cinese, come dico sempre io, ti impongono tutto, ma anche lì ormai hanno capito che con degli strumenti, come abbiamo detto prima, tipo la VPN, riusciamo a bypassare questi problemi e le leggi sul digitale non si applicano in questa maniera imponendo delle norme o dando delle imposizioni ai cittadini, alle aziende o quello che sia, ma si applicano facendo capire i pro e i contro, semplicemente così. Prego Sabio, anche a te un commento sulla questione che ovviamente è spinosa, soprattutto per quanto riguarda il sistema di illusione della norma. Beh, parecchio spinosa. Il collega è stato più che puntuale, comunque ha anche più esperienza nell'ambito rispetto a me, questo sicuramente. È un modo per eludere, molti lo trovano quasi sempre per una qualunque cosa, in questo caso le VPN. Le VPN anche questo, hanno il loro pro, possiamo dire, è anche il loro contro, sono un mezzo tagliente se ti vogliono indurre a fare eludere delle leggi, sì, però hanno anche i loro pro. Giunto a questo punto bisognerebbe lasciare piena libertà in un certo senso, ognuno deve saper capire ciò che sta facendo, sì, però la libertà anche in questo caso fino a un certo punto, perché comunque bisognerebbe fare sensibilizzazione sulla questione, perché comunque i social, internet, ha anche le sue insidie, quindi bisognerebbe puntare parecchio su questa sensibilizzazione del pubblico. Io parlo come responsabile dei giovani regionale di Italia Viva, quindi conosco molte realtà e ascolto molti giovani, vanno sensibilizzati e bisogna parlarne, io in primis ovviamente, bisogna capire i rischi, i pro e i contro, quindi si torna sempre al principio, c'è abbastanza sensibilizzazione, se no riusciamo a capire tutto fino in fondo. Questo è un grande tema, soprattutto dal punto di vista dei giovani, perché non è che ci sono solo Rildi Gattini o del Dottor Bavaro, insomma ci sono delle cose molto, conosco, la regia Rive, la verità, anch'io sono, sto attento ai fenomeni social, applausi, adesso proprio, si vuole anche la standing ovation. Però William, Savio ha ragione, perché la cosa impatta soprattutto sui ragazzi, tu prima hai parlato del silenzio elettorale, il silenzio elettorale non esiste più da nessuna parte del mondo ormai, sui ragazzi questa cosa però influisce, cambia l'approccio. Assolutamente sì, ecco perché come diceva Savio prima, bisogna riscrivere, è giusto ribadisco che ci siano per il digitale in generale, ma non in posizione non devi fare quello perché ho deciso io, perché nel momento in cui tu dici non devi fare quello perché ho deciso io stato, mi devi motivare il perché, qual è il danno che mi provoca o il beneficio stesso, perché inutile fare una legge senza sapere spiegare perché te lo tolgo quello strumento. È sbagliatissimo l'approccio, come diceva Savio, sicuramente lavorare sui giovani, perché oggi la tematica fondamentale è, nelle scuole, diciamo, primarie, secondarie, secondarie, medie, superiori, e vabbè, università è l'ultimo step, è realmente sentito questo problema? Si tocca con mano? Ci sono i docenti competenti? Riescono a rispondere alle esigenze dei ragazzi che magari pongono dei problemi? Oggi ho visto quella cosa su TikTok, su Instagram, su Facebook, dove volete voi? Ecco, queste sono le tematiche che giustamente deve fare una classe dirigente, una classe politica, per poter governare questo mondo, ma non governare a colpi di legge, governare a colpi di cultura, come dico sempre io. A questo punto direi che vediamo un servizio che ci fa da trampolino per il prossimo blocco, perché c'è veramente un argomento sul quale ci possiamo sbizzarrire, che tra poco arriva, perché anche il premier può essere hackerato, ma anche molto facilmente, tanto un servizio che ci fa da gancio. Utilizzare i social network nel letto o prima di andare a dormire non è una buona idea, soprattutto se a farlo sono i bambini, che di regola sotto i 13 anni non sono proprio ammessi a queste piattaforme. Un assunto che viene consolidato da una recente ricerca di The Monfort University Leicester del Regno Unito, secondo cui il 12,5% dei ragazzi di dieci anni perdono la notte di sonno ogni settimana per controllare le notifiche in arrivo da TikTok, Snapchat e Instagram. A condurre lo studio è stato il docente di psicologia il dottor John Shaw, che ha analizzato il comportamento di 60 preadolescenti provenienti da diverse scuole e città nel Regno Unito. Il gruppo ha dormito in media 8,7 ore ogni notte, meno delle 9-11 ore raccomandate per quella fascia di età dai Centers for Disease Control and Prevention. La maggior parte ha ammesso di aver utilizzato i social media per più di 4 ore al giorno, con due terzi che hanno affermato di utilizzarli proprio prima di coricarsi. TikTok per il 90% di loro, poi Snapchat per l'84% e Instagram per poco più della metà degli intervistati. Shaw ha descritto i risultati, il timore di essere stromessi che è amplificato dai social media, sta influenzando direttamente il sonno dei più piccoli che vogliono sapere che cosa stanno facendo i loro amici, ha affermato. Allora va bene il gancio, però è un servizio che va commentato assolutamente, perché comunque i dati sono eloquenti. William? No, no, sono allarmanti. Eh sì, hai ragione. Nel senso che non è normale che un ragazzino di 13-14 anni non riesca a riposare le dovute nove ore, come diceva il servizio, ma arrivi a togliersi due ore da dedicare totalmente ai social network perché ha la curiosità, è giusto che ci sia, di che cosa sta facendo l'amichetto dall'altra parte della città o del quartiere e quindi utilizza che cosa? Uno strumento, uno strumento in questo caso è TikTok e capite benissimo che io non do la colpa ai ragazzi perché comunque, come diceva bene il servizio, si inizia l'iscrizione su questi social dall'età di 13 anni. Nel momento in cui tu sei un minore, in questo caso autorizzato, chi autorizza è sempre il genitore. Ecco perché la cultura parte dalla famiglia, poi la scuola e poi via discorrendo verso la professione lavorativa. Sì, sì, pienamente d'accordo con William, è qualcosa veramente di preoccupante, io personalmente mi permetto di aggiungere questo, è un'abitudine che mi sono proprio imposto, nel senso non prendo proprio il telefono da un certo orario della sera perché comunque anche la sanità ce l'ha insegnato, l'avere il cellulare accanto, il dormire con il cellulare accanto, il soltanto vedere la notifica a una certa ora della sera potrebbe provocare disturbi proprio al riposo notturno. Sul dato preciso di TikTok, oppure sapere cosa sta facendo dall'altra parte della città, il mio amico, il mio compagno o quant'altro, siamo proprio, personalmente possiamo dire, siamo proprio alla follia. Eh beh, sì, d'altronde poi ci sono queste storie pazzesche, vabbè poi è tutto abbastanza montato. Attenzione, la realtà è altro, ve lo dico sempre, ma non lo dico solo a chi ci sta ascoltando, poi la cosa mi fa ridere, l'argomento che arriva, per me è incredibile ragazzi, però come l'ho scoperto? Dice un giornalista, lo scopre, vede le notizie, io ho le notifiche attivate per i principali politici d'Italia e ovviamente del mondo. Arriva la notifica sul telefono, Giorgio Meloni ha pubblicato una storia sul suo profilo, vabbè sarà sicuramente qualcosa legato al G7, l'informativa alla Camera sull'Ucraina. Apro e vedo, guadagna 7 mila euro in cinque minuti. E cioè, non è possibile. Signori, la notizia è che l'account del Premier, William, è stato hackerato, ma non è tanto il Premier in sé, è che una figura istituzionale ha avuto questo sistema di hackeraggio, tra l'altro bypassando anche il fattore a doppia autenticazione. Cioè è stato facilissimo entrare dentro questo sistema, ma questo non coinvolge Giorgio Meloni in sé, poteva accadere a Matteo Renzi, Carlo Caleno, poteva accadere a chiunque, è che anche le figure istituzionali sono in difficoltà davanti al sistema di hackeraggio. E io l'ho scoperto per caso. Che ne pensate, William? Diciamo che il problema è rilevante. Nel momento in cui si arriva, non tanto a manomettere il profilo per la pubblicazione di una determinata sponsorizzata, chiamiamola così abusiva, capite benissimo che non è più la casaringa Maria, come si può dire, che ha problemi col profilo, ma capite che si arriva a certi, non presidere dal ruolo che sia in un contesto nazionale o ex o europeo che sia. Quindi capite benissimo che la sicurezza sull'account, sì, è corretto il discorso del fattore doppia autenticazione, però lì da quel che si sa, da quel poco che si sa, è sicuramente un problema di dispositivo. Cioè cosa vuol dire? Sono entrati nel proprio dispositivo. Quindi questo cosa vuol dire? Quando noi vogliamo digitare sul proprio dispositivo, digitiamo la password, abbiamo le password memorizzate, abbiamo le chat, eccetera, eccetera. E capite benissimo che anche l'autenticazione a due fattori non può nulla in quel contesto, purtroppo o per fortuna che sia. Poi c'è da dire sempre che ricordiamoci che tutti i politici, tutti i leader, tutto quello che volete voi che hanno delle posizioni apicali, non gestiscono in prima persona il proprio account, ma viene gestito da un social media manager o da un comunicatore. E chi mi dice che il telefono, in questo caso della Meloni, fosse perfetto, quindi nessun tipo di attacco al proprio telefono, ma magari è stato attaccato il telefono del proprio comunicatore o del collaboratore che sia. Ci sono mille interrogativi ancora. I interrogativi presenti ci portano, Savio, alla questione della sicurezza, perché veramente io ne ho visti di account di amici miei hackerati con queste sponsorizzate che girano, loro che mandavano il messaggio, non rispondete, non rispondete. Però finché era un amico mio, io ridevo, gli faccio pure la battuta, poi mi diceva magari accade anche a te, non mi accade, tranquilli. Però se succede al Premier ovviamente uno dice allora può veramente capitare la qualunque, perché adesso è un bot, però un bot finito, tolto, pulito tutto, è ok. Ma può accadere molto peggio, Savio? Può accadere sicuramente, come è stato detto a chiunque, se è accaduto alla Premier aggiungerei anche influencer del momento, lasciamo questa scoccata di freccia politica, è un qualcosa veramente di grave. Bisognerebbe veramente chiedersi se riusciamo a comprendere seriamente in questo caso ciò che abbiamo in mano. Sì, abbiamo un telefono, ma quel telefono cosa può farci fare. In questo caso ovviamente sicuramente non è stata colpa della Premier, ma di uno dei suoi tanti collaboratori, sicuramente. Però questo significa proprio che bisognerebbe stare più attenti a quello che si fa, ma in maniera più semplice, come è stato detto prima, dalla casalinga, in questo caso all'influencer, al Premier, al politico di turno. Bisogna veramente stare attenti a ciò che si clicca, alle mail che si aprono, a una qualsiasi cosa. Su questo bisogna veramente investire proprio sulla conoscenza, sull'informazione, sulla cyber sicurezza in generale, perché è un tema veramente, veramente importante, che forse fino adesso è stato un po' troppo sottovalutato, ma probabilmente sarebbe l'ora di iniziarci a pensare in maniera più approfondita. Però io ragiono, prima di salutarci, su un fattore. Ok, è lo staff del Premier, poniamo caso. Però io questo link l'ho visto ovunque, in tantissime storie di tanti amici miei, ma io mi domando, una persona che gestisce un account social, ma non lo sai che cliccando un link poi accade tutto quello? Mi sembra strano, perché in questo caso parliamo di hackeraggio, bisogna stare attenti a distinguere le cose, William. Diciamo che è una forma di hackeraggio, perché quel tipo di attività fraudolenta, alla fine un'attività fraudolenta nei confronti di un account social, diciamo avviene, faccio l'esempio, attraverso dell'apertura di un classico SMS, senza andare lontano, o una mail, senza andare lontano, oppure navigare con un browser dove praticamente ci sono che cosa? Dei cosiddetti plug-in che permettono l'autoinstallazione su quel dispositivo di determinati malware o phishing che sia. Davio, voglio sentire anche la tua, perché ovviamente è una questione non da poco. Beh sì, sì, come ho detto prima, la ripresa anche William, proprio il poter cliccare semplicemente una mail che ci arriva, che ci sembra la cosa più affidabile, ad esempio talvolta mi arriva qualche mail dove dice il suo pacco è in giacenza e mi viene da cliccare perché magari sto aspettando un pacco e lì ho creato un danno a me stesso, un serio danno a me stesso, perché significa che ho cliccato su un qualcosa che non dovevo cliccare e poi soprattutto non so ciò che può accadere cliccando quel link, cioè può accadere una qualsiasi cosa, così come è accaduto in questo caso alla Premier o come accade giornalmente a chiunque, i nostri amici, parenti o conoscenti, bisogna veramente stare attenti su questo. Io vi devo ringraziare per il vostro contributo, grazie William, ci vediamo il prossimo mercoledì. Ciao, buona serata. Buona serata anche a te, buona serata anche a Savio Rocciolo, ciao Savio, a presto ci risentiamo. Grazie, grazie a voi, alla prossima. Grazie, grazie a te, andiamo a chiudere allora la giornata, vi è piaciuto questo movimento? Grande, così si fa, si chiude, no? Quando si chiude come un grande direttore d'orchestra, come se fossi muti, prende e fa la chiusura, è così noi facciamo anche con la mano, e d'altronde la bellezza del linguaggio e anche il linguaggio del corpo, che va oltre il telefono, questo ci tengo a dirlo, perché sì, per carità, questo attrezzo che ho adesso in tasca e che non si vede, altrimenti da sopra, quindi è molto utile, però ricordatevi sempre che la plasticità del movimento è la bellezza del linguaggio. Un applauso spontaneo che è partito dalla regia, perché ci porta dentro, non parte proprio, proprio zero, perché meno male che tra tre mesi ce ne andiamo tutti, chiudiamo, ma io sto qua, in un modo o nell'altro, resterò qui. Chiudiamo, ma che sto dicendo? La giornata, perché adesso lanciamo il telegiornale, poi parleremo di proteste dimenticate, di trattori, non se ne parla più, trattori parcheggiati e dimenticati. Parleremo di Maria Callas e il ricordo della Divina, e poi chiuderemo con Tiziano Ferro, con le pratiche avviate per il divorzio. C'è tanto da dire, tra ring, personaggio, ultimo giro, ci divertiamo, lo sapete, a pomeriggio con noi, sempre restando seri con il filone dell'attualità. Adesso però, spazio all'informazione col TG. Ciao, ciao! doctors Grazie a tutti.